Uno dei più grandi giuristi italiani del Novecento. È stato questo Salvatore Sata, la cui opera e impegno in campo giuridico sono stati analizzati stamattina da illustri studiosi coordinati da Ugo Collu nel corso di un convegno ospitato nella Biblioteca Sata. Il sindaco Andrea Sodio e l'assessore alla cultura Sebastian Coco hanno portato il saluto alla città, mentre nell'auditorium sono state esposte alcune tavole di Manuele Muredu che fanno parte di un volume a fumetti su Il giorno del giudizio. È stato esplorato ormai in lungo e in largo. Noi per questo convegno abbiamo messo l'evidenza su alcuni momenti ancora oscuri, per esempio il suo rapporto con Marco Tullio Zanzucchi a Milano da tirocinante, i principi che ha preso da Capograssi e poi abbiamo cercato soprattutto di evidenziare da un punto di vista complessivo qual è il significato della sua opera oggi, cioè la sua attualità. Qui c'è il suo allievo prediletto che è il professor Mazzarella, quindi è la persona più adatta per far questo e poi ci sono degli allievi che hanno fatto delle tesi di laurea molto importanti e che oggi sono uno la Cassazione, l'altro la Corte dei Conti e così via nazionale, che sono persone di tutto rispetto dal punto di vista culturale nei confronti di Satta. Che si è preso molte rivincite rispetto ad una serie di critiche che a lui sono state fatte nel momento, nel momento in cui lui era all'apice del suo pensiero, soprattutto negli anni 60-70, erano gli anni della contestazione, quello che è capitato dopo con le brigate rosse e tutto quello che è successo gli hanno dato ragione.